e ci siamo ci siamo accanto a noi una delle più grandi barman di Catania e provincia del mondo ma che dico? dell'universo come si chiama? Deborah Deborah, Deborah, qual è il cocktail più richiesto qui a Maeva? ma guarda il mojito sicuramente Capirosca e Capirigna, sono i drink dell'estate il motto di quest'estate il cocktail di quest'estate quale sarà? guarda il mio cocktail dell'estate si chiama Aperol Mind, l'ho fatto io l'ho inventato io, alla base del mojito però non ti dico com'è fatto perché è un segreto da barman ovviamente saluto il popolo che ti segue da casa ciao popolo della notte, venite a trovarci siamo qui a Maeva per tutta l'estate, ciao gli sfendi siciliani show, eccoci qua vediamo un po' chi c'è qui accanto a noi Luana Luana, ciao Luana, tu studi? che facoltà sei? lavoro io oh finalmente qualcuno che lavora la bellezza è di tre ore tre ore, tre ore e visto che tu lavori, no? questa è una serata uni universitaria universitaria e a noi che ci frega l'intervista la faremo lo stesso io voglio sapere da te Luana qual è la stella più vicino alla terra? il sole e vediamo un po' stavolta che abbiamo stavolta abbiamo un pezzo grosso signori special one special one special one con noi si chiama Giuffrida Lorenzo Giuffrida Lorenzo special one special one dillo bene special one oh dallo special one io voglio sapere devi essere sicuro devi essere costante cosa non deve mai toccare un giocatore di pallavolo la rete penso special special one e siamo in diretto qui a Moeva con gli spili siciliani show il nuovo format estivo vediamo un po' chi abbiamo stavolta accanto a noi nomi Erika Flavia Eleonora Erika Flavia Eleonora il nome del sindaco di Catania attualmente in carica Stancanelli Stancanelli io voglio sapere da voi da donne siete donne? ovvio abbastanza sono donne siete woman? ovvio fino a prova contrario sono donne sono woman siete femmine? sì sì io voglio sapere da voi qual è l'uccello che vive più a lungo il tuo tango è sempre in diretta mercoledì universitario 6 giugno 2012 siamo nel al Maeva a Catania siamo nel Maeva Beach ma siamo nel anno 2012 insieme 2012 bravi nel 2012 accanto a me sulla destra abbiamo Zaira Prix sulla mia sinistra Gianluca ok Gianluca ok sei ok? sì sì ok sei ok Gianluca ti mettiamo alla prova con delle domande di cultura generale io voglio sapere da te quanti sono i fusi orari i fusi orari i fusi orari sono 6 io voglio sapere da nome Zaira si chiama Zaira come si chiama? Zaira Zaira oh eh Zaira io voglio sapere da te io voglio sapere da te come ti chiami? Zaira Zaira si chiama Zaira Zaira un po' di serietà Zaira io voglio sapere da te si ti trova la Siberia la Siberia lui lo sa è in Antartide allora gli spilli siciliani show gli spilli siciliani show stavolta che abbiamo accanto a noi come ti chiami? Federica Roberto Federica e Roberto e Roberto e Roberto allora domanda di cultura generale iniziamo da Roberta Roberta io voglio sapere da te quanti sono i fusi orari i fusi orari uno due sono due sono tre stavolta io voglio sapere da te il tuo nome Federica tutti Federica si chiamano qua ma Federica che viene da Scordia bravi che viene da Scordia Scordia provincia di Catania bravi visto che la provincia è Catania la città è Catania io voglio sapere da voi qual è il nome del sindaco attuale di Catania Stancanelli Agnello no di Scordia Agnello è che ti sto chiesto di Catania io gli spilli siciliani show e siamo sempre in diretta qui a Maiva con gli spilli siciliani show stavolta abbiamo la donna più alta e la donna più bassa dal grattaceno passiamo ad un palazzo di primo piano ma entrambi due palazzi di varie diverse bellezze come si chiamano? Linda Silvia Silvia da dove venite? Bronte Bronte da Bronte chilometri 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 io voglio sapere da te dove si trova la Siberia in Bielorussia e stavolta accanto a me che abbiamo l'abbiamo trovato finalmente il PR number one il mercredì universitario Maiva lui è Affiuccio Lanza ciao Affiuccio ciao Carmelo come va? io bene tu come va con questa fantastica serata? tutto bene non me l'aspettavo sinceramente lo presentiamo special guest number one Sicilia DJ Felix ciao Felix ciao Carmelo come va? ma io va bene facciamo a contrarre le domande number one Sicily gli spilli siciliani show e ancora una volta gli spilli siciliani show hanno colpito con il suo test di cultura generale in diretta qui a Maiva ricordiamo mercoledì universitario targado Affiuccio Lanza su Facebook Affiuccio Lanza ovviamente noi vi ricordiamo i nostri contatti su Facebook gli spilli siciliani show oppure sul sito internet www.spilladj.it e cliccare web tv e cliccare web tv